...di uno dei santi più celebri della storia. È il filo conduttore del libro di Arnaldo Casali, giornalista e scrittore eternano, dal titolo Valentino, il segreto del santo innamorato. Ne parliamo nella copertina di questa storia. Racconta per la prima volta la storia del patrono dell'amore attraverso un intreccio tra realtà e immaginazione, storia e leggenda, seguendo le orme di un personaggio tanto celebrato quanto sconosciuto, Valentino. Il segreto del santo innamorato, romanzo storico scritto dal giornalista e scrittore eternano Arnaldo Casali. Brutto di anni di studi storici sul santo, ma anche sulle tante leggende fiorite attorno alla sua figura, nel corso di 1700 anni, il romanzo presenta un affresco storico della Roma imperiale, degli inizi del cristianesimo e ipotesi, tanto azzardate quanto probabili, sul ruolo rivestito da William Shakespeare nella trasformazione di Valentino da vescovo sconosciuto anche i suoi stessi buoni cittadini a simbolo universale dell'amore di Pocca. Partendo da ritrovamento nella biblioteca di Terni, di uno scritto che svela la storia segreta di San Valentino, il romanzo attraversa 17 secoli con diversi piani narrativi che si intrecciano e segue le orme del giovane Valentino dalla conversione al cristianesimo, all'elezione a vescovo, incrociando misteri, complotti, passioni, morose e spiritualità. Pubblicato da Dalia, casa editrice Nato Mano Paterni, il romanzo sarà presentato al pubblico sabato alle 16.30 alla libreria del Tine di Terni.